Porco spine porco spine Allora Purtroppo Il mio computer è un portatile Quindi Visto che Qualcuno di voi me l'ha fatto pure notare Non ho portato Non ho fatto più i video Sulla Hedgecraft Lo so Perché Il mio laptop non è abbastanza Potente Da reggere più di 15 minuti di video Infatti l'episodio Che avevo fatto dove raccoglievo il ferro L'ho fatto Più di 15 minuti E quindi Non ho aspetto Però Fatemi sapere Voi Se volete La Hedgecraft 2.0 Fatemelo sapere nei commenti E lasciate tanti like Siete dei porco Spini Veri Grazie a tutti